scusa scusa te del lato lì non puoi spostare quella cosa lì e metterla la sopra la metti la metti lì perché se no non si capisce che c'è lavoro ma a te non c'è niente da fare oggi qua ma no solo per dire di spostarla lì e fatti un giro nell'altra parte va per piacere lascia stare la gente che sta lavorando il giordino è te scusa è quella lì non vai ci faccia cassa non vai ci faccia cassa ah ah